giochiamo con minecraft grazie barbie per averci ospitati di nulla potete restare qui con me quanto volete grazie cara si grazie mille è troppo bello restare qui con te gio gio sono felice ma barbie hai un computer eh si mi diverto sai ogni tanto a giocare con qualche gioco ad esempio minecraft anche se però devo essere sincera non capisco molto davvero wow il gioco si divide in giorno e notte ci sono nemici pericolosi e bisogna nascondersi bisogna costruire e bisogna sopravvivere possiamo giocare? ma certo magari imparo anch'io qualcosa evvivo giochiamo con minecraft che bello che bello voglio provarci io ok accomodati ok andiamo di qua facciamo un saltino di qua e poi andiamo ancora più su e poi andiamo ancora più su eccoci eccoci andiamo ancora che bello ci sono le piante ci sono i funghi mi piace oh cos'altro ci sarà sono così curiosa oh oh ma sta arrivando la notte paura e adesso io lo so dovresti farti un rifugio oh va bene adesso guardo cosa fare intanto andiamo di qua non c'è nessuno ecco un saltino oh oh ma sta arrivando oh ma andiamo ciao luna proviamo a vedere come si fa a scavare vai scaviamo distruggiamo tutto via via boom 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 opla ancora vai ogni volta che si distrugge un cubo ne acquisto uno per costruire quindi se voglio costruirmi qualcosa devo distruggere prima ecco ancora di più vediamo dunque ok e voilà intanto che scavo sta facendo anche giorno e non c'è nessuno oh oh no la spada perché io vedo qualcosa muoversi andiamo a vedere la voglio combattere oh ma flo sei sicura oh no in effetti non sono sicura stai attenta aiuta sono diventata rossa non so perché forse sto perdendo vita ah sì ah sì proprio così ma vedo niente non mi vado aspetta così quasi mi faccio un buco secondo me ti perdi in chiacchiere cosa stai facendo oh no di nuovo ah ah prova prova continuo così aiuta ma però continua a diventare rossa oh aiuta via pussa via pussa pussa ecco che brava che sono andiamo dai oh sta quasi facendo giorno scaviamo un bel bucone ancora su forza adesso che giorno approfittiamone per farci questo nido scaviamo no fammi fare un po' a me dai ecco voglio costruirlo io questo nido scaviamo scaviamo andiamoci da fare perché i mostri sono veramente tanti ehi Nick ti stai proprio sfogando stai facendo un buco incredibile sei sicuro di fare tutto questo buco sì Ale è troppo divertente spaccherai tutto anche io anche questo dai non capisco perché i grigioli comunque non piamo continuiamo a scavare il nostro bellissimo rifugio oh no comincio a soffrire di claustrofobia forse sono sono sceso un po' troppo non passi adesso come faccio a uscire eh aiuto dove spacco oh no oh accidenti a me che me l'ho fatto fare cosa faccio questo qui grigio non si rompe ok ufficiale mi sento soffocare ok Nick provo a lasciare fare a me ok Nick vediamo un po' cosa possiamo fare tiraci i cuori intanto io penso di costruire una una scala è una buona idea vediamo aggiungiamo un blocco eccoci arrampichiamoci forza guardiamo dove dove ci troviamo un po' il gioco migliore è quello di rompere penso e creare una scaletta forza Ale che ce la fai evviva un po' di luce dai che ce la facciamo che bello forza tocchiamo tutto e usciamo ragazzi ci siamo siete pronti per uscire si evvivo e dai ci siamo quasi Nick hai fatto un buco terribile mi stai facendo lavorare tantissimo ma ce la farò bravo Ale ce l'hai fatto evviva sei fuori ormai che bello ragazzi libertà evviva proseguiamo la nostra strada oh no accidenti è di nuovo buio forse ci li conviene tornare dentro oh no allarme rosso torniamo dentro oh no oh mamma mia neanche il tempo di oh ma no riescono ad entrare aiuto dobbiamo scendere guarda non è sopra non riesce a entrare restiamo qui finché non fa giorno esatto evviva possiamo uscire finalmente è giorno sono andati via via libera sì via libera sì yeah eccoci tornati fuori ragazzi yeah un po' di luce finalmente ehi guardate c'è una mucca vediamo se ci dà una bestecchia no perché lo stomaco è quasi vuoto ragazzi niente però guardate c'è una casa wow che bello proviamo proviamo a entrare ehi ragazzi entriamo è quasi buio wow che bello fantastico abbiamo trovato una casa per noi finalmente qui saremo al sicuro già chiudiamo la porta però siamo senza cibo ragazzi dobbiamo trovare cibo per forza guardate si vede fuori andiamo a vedere wow che bello essere al sicuro eh già io comincio a avere un certo langurino però avrei un po' fome ragazzi ci ho pensato io venite a tavola che donna eccezionale grazie 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 mille che puntata insolita ragazzi scrivetemi nei commenti se volete ancora video come questi con i videogame e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e io vi saluto e vi aspetto alla prossima ciao ciao